Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Spero che non sentiate i rumori sottofondo. Purtroppo ho girato già questo video otto volte, perché purtroppo alla prima volta ho acquistato un microfono che non funzionava bene. La seconda volta mi avete consigliato di usare delle cuffie, ma purtroppo ho scoperto che le mie cuffie non hanno il microfono. Se servono solo per ascoltare la musica. Quindi scusate, mi cercherò di fare il meglio che posso. Se sentiate la mia voce che ha diverse altezze di tono, è proprio la mia voce. Non riesco a calibrarla bene, però ce la vorrò. Allora, scusatemi per lo sfondo, non volevo più natalizio. Però purtroppo mia mamma mi ha rubato il telo. Ho cambiato le inquadrature, che questa mi piace di più. Mi avete chiesto in molti un video a tema natalizio, asemene. Quindi cercherò di farlo. Scusatemi, sempre per fuori. Perché cerco di aspettare che finiscano di fare i lavori, ma ci sono comunque. Allora vi andrò a far ascoltare diversi tipi di suoni, che sono molto differenti. Scusatemi, il cerotto. Spero che vi piacciono le mie unghie, visto che ho notato che notate molto le mie unghie nei video. Il primo suono, che l'ho comprato al mercato, e penso che abbia un bellissimo suono. che spero che abbia un bel sapore. Con fatto al mercato l'ho pagato soli 2 euro. E' bellissimo. E' di un sapore, è un giunto. E adesso queste palline qua, che le avrò staccate a meno 4-5. Però mi girazia tantissimo. Magari è un bel. non vale anche il servizio di strumento di effetto questo è un artico sembrato permetteva un po' di ciò Grazie a tutti. Mi piace tantissimo fare i pacchetti di Natale, comprare delle cose carine, io sono un po' strana, però adoro tantissimo acquistare i regali, comprare delle cose carine per la casa, i capellini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io trovo che questo abbia un suono bellissimo, è un porta candela, come potete vedere, però ha un suono magnifico. Sentite proprio, è fatto di, diciamo, in porcellare gesso, e quindi ha questo suono, scusate le macchine. Ho fatto un po' di tempo fa, con i punti dell'Ipercop, e ne ho due, uno ce l'ho, io ce l'ho, io ce l'ho, mia sorella. E lo trovo bellissimo, perché con la cannellina dentro, ripete la luce del fruco di nero. E lo trovo bellissimo, è un po' di tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, Thank you. 1, 3, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 16. 7, 11. physiog Stellatif 저는. 8, 11, 16, 21, 18 pH, 29発ini. Passiamo. 3, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 18, 12, 16, 18, 22, 18, 17, 20, 15, 16, 18, 16, 17, 18, 18, 19. Passiamo al prossimo oggetto, il prossimo oggetto sarà una cosa molto carina, che è questa qua, ce l'ho da un po' di anni, che appunto era l'acrifoglio, punge un po' ma mi suona ancora per poco perché punge un po' però mi suona fantastico. Sì, ha tipo di portano, non ho tuperemo, non ho vedi, non ho vedi, non ho vedi, non ho vedi. Tipo di suorca Questa bellissima scatolina Rosso Perfetta per il tapping Anche se non ho le unghie lunghe Però Tutto strassi Perfetto 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.